Infissi legno alluminio scorrevoli. Ciao sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Gli infissi legno alluminio ci prestano chiaramente a realizzare anche delle vetrate scorrevoli perché gli infissi legno alluminio moderni quindi con la parte principale in legno e la parte esterna in alluminio come protezione sono realizzati con legno lamellare. Il legno lamellare è un legno che va a togliere un po' le forze all'interno del legno, va ad aumentare le forze quindi è un legno molto stabile e anche molto resistente. Infatti viene utilizzato anche per fare i tetti in legno no? Quindi abbiamo della resistenza meccanica che possiamo sfruttare negli infissi scorrevoli dove naturalmente abbiamo delle dimensioni e dei pesi più grande rispetto ad un infisso normale. Il tipo di infisso scorrevole che consiglio con legno alluminio è quello alzante quindi lo scorrevole che può alzarsi e scorre su se stesso. Questo è un infisso che lavora bene e si possono fare cose di dimensioni che sono molto grandi. Poi ci sono anche degli scorrevoli normali non alzanti minimali molto belli. Se arriva adesso sul mercato esistono anche degli scorrevoli a levitazione magnetica legno alluminio molto molto validi per movimentare dei pesi elevati c'è veramente con un dito vengono spostati. A discapito di contro hanno un costo che ancora è abbastanza elevato però a volte ne vale la pena insomma di utilizzare questo tipo di serramento dipende dagli obiettivi e dalle dimensioni che ha a casa tua. Poi esistono anche gli infissi scorrevoli invece i cosiddetti traslanti quelli che vengono attaccate delle plastiche posticce delle guide posticce a un infisso battente traslo verso il teppo e scorno. Queste non te le consiglio né in legno alluminio né neanche negli altri materiali perché sono un tipo di ferramente che hanno dei problemi di durata di manutenzione sono brutti c'è un infisso sotto elevato che non può essere incassato pavimento sì perché un infisso legno alluminio la sua cosa bella è che posso incassare la guida pavimento quindi posso creare un infisso senza inciampi molto piacevole alla vista ma soprattutto pratico nell'utilizzo. Se ti servono dei consigli su quale soluzione scegliere su quale tipo di infisso e non sai come fare perché dall'altra parte chi ti sta facendo i preventivi ha un evidente conflitto di interessi puoi approfittare del nuovo servizio di consulenza che ho creato per aiutare chi come te deve scegliere appunto i serramenti. Per saperne di più puoi andare su www.blogbisacchi.it e richiedere la tua consulenza personalizzata. Ho dedicato 4 ore alla settimana per questo tipo di servizio quindi i posti sono abbastanza limitati se vuoi saperne di più vai sul sito e compila il form. Ciao e al prossimo video Ciao e al prossimo video